Renato Zero in visita alla Fondazione Focus ai quartieri spagnoli per Napoli Città della Musica si dice innamorato dei vicoli che portano vita e innovazione. Renato Zero in visita alla Fondazione Focus ai quartieri spagnoli di Napoli, sentiamo Piero Vitiello. Ai bagni di folla è abituato, anche se questo alla Fondazione Focus nei quartieri spagnoli è speciale per Renato Zero, che dopo i concerti a Piazza Plebiscito è rimasto in città per il progetto Napoli Città della Musica e i suoi risvolti sociali. Questi vicoli parlano di vita, parlano di incontri, parlano anche di innovazioni perché è una città che si evolve, i giovani hanno questa grandissima energia e questi ragazzi gli dobbiamo garantire cultura, assistenza, gli spazi, l'aria, lo sport se pensiamo che il futuro sia nelle loro mani dobbiamo aiutarli a svolgere bene il loro compito. Le maglie da calcio regalate alla squadra del quartiere, una chiacchierata con il giornalista Federico Vacalebre, con Isa Danieli ma soprattutto con i fan a corsi da tutta Napoli, città con cui da sempre il cantautore romano ha un rapporto speciale, certificato nei saluti finali dalla canzone Simbolo. Sì, stai, 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 stai.